Viaggiare in autostrada dovrebbe essere comodo, veloce e sicuro. Tutto ciò invece non può succedere sulle autostrade siciliane, poiché gli inconvenienti, i disagi e le carenze sono tutti dietro l'angolo. In particolare oggi accendiamo i riflettori sulla A19 Catania Palermo e sulla A20 Messina Palermo. In particolare nella prima, nel primo pomeriggio di ieri, è saltato un giunto del viadotto Fiume Torto, il che ha reso necessario l'intervento della polizia stradale e degli operai dell'ANAS. Il traffico ovviamente è andato in tilt, con code chilometri, con gente che è riuscita a ritornare a casa dopo ben quattro ore di agonia. Gli automobilisti diretti verso Catania e Messina sono stati costretti a uscire a Termini Merese e a rientrare sull'autostrada A19 presso lo svincolo dell'agglomerato industriale. Il tratto dovrebbe essere stato riaperto alle 13 di oggi, 19 novembre, da quanto confermato dalla polizia stradale. Mentre dall'ANAS aggiungono che non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sull'opposta carreggiata, in quanto la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalca ferrovia. Quindi una vera e propria odissea per i viaggiatori, ma andando più in là e imboccando l'autostrada A20, da Bonfornello, pagando il pedaggio perché dobbiamo ricordare che questa autostrada è a pagamento, dopo Cefalu ci si imbatte all'altezza della Galleria Battaglia in un cartello che annuncia lavoro in corso, con conseguente restringimento ad unica corsia di marcia. Il restringimento inizia dalla Galleria Santa Lucia ed è abbastanza lungo, attraversa molte gallerie, tra cui il lunghissimo tunnel Carbonara. E lungo tutto questo percorso ci si accorge di una cosa, non c'è nemmeno mezzo lavoro in corso, non si vedono mezzi, non si vedono uomini, non si vede niente e nessuno. Si attraversano gallerie poco illuminate, è un'arteria che presenta un manto stradale molto irregolare e dissestato su tanti tratti. Ma la sorpresa per l'automobilista arriva al termine della succitata Galleria Carbonara, quando si vedono dei cartelli di limite di velocità a 60 km orari e di pericolo per la presenza di manto dissestato. Ma più che di manto dissestato dobbiamo parlare di vera e propria voragine, di un avallamento enorme che se viene beccato in velocità si rischia di causare incidenti, schiantarsi con il proprio mezzo. Da quanto sappiamo questa situazione persiste da moltissime settimane e nessuno ha visto uomini o mezzi del CAS in azione e la cosa che sconvolge gli utenti è che questa autostrada è a pagamento e in molti tratti non esiste quella sicurezza che dovrebbe essere assicurata a chi intraprende un viaggio in autostrada.